Ciao ragazze, oggi vi parlo dei prodotti terminati durante il mese di ottobre Ho qui sulle gambe il mio solito cestino, bello pieno, bello colmo di prodotti da mostrarvi e recensirvi Prima di iniziare però, ci tengo a dirvi che cosa indosso oggi sulle labbra perché si tratta di un rossetto che personalmente adoro alla follia e sto parlando di questo rossetto di MAC, Hot Chocolate famosissimo perché è andato tanto tanto di moda negli ultimi mesi e si tratta di questo rossetto uscito in una vecchia edizione limitata, vi ripeto, diversi mesi fa come potete notare si tratta di questo colore cioccolato, come dice il nome stesso ma secondo me con all'interno anche una puntina di malva io lo trovo perfetto, un colore bomba, ecco, per questo periodo autunno-inverno, per il periodo freddo Fatta questa premessa possiamo partire subito con il video dei terminati che cosa ho terminato durante il mese di ottobre Allora, ho terminato innanzitutto questo prodotto qui di Natura Bella un prodotto ecobio perché certificato Icea che ho comprato e trovato diverso tempo fa da Eurospin questi prodotti non si trovano sempre da Eurospin solitamente due volte l'anno non sono presenti diciamo in collezione permanente ma sono un'edizione limitata che ogni tanto viene riproposta da Eurospin natura bella, detergente delicato questo è con estrato di foglie di olivo e tensioattivo da olio di oliva biologico per viso e per mani sono 350 ml di prodotto non ricordo esattamente il prezzo ma credo intorno ai 2,50 euro massimo 3 euro e questo prodotto l'abbiamo utilizzato tutti e tre in famiglia come semplice sapone per le mani ci siamo trovati molto bene nulla di particolare nulla di eclatante però come sapone mani secondo me andava più che bene pulente quindi lavante al punto giusto delicato perché non seccava le mani e lasciava un'ottima profumazione di pulito anche per diverso tempo sulla pelle delle mani l'unica pecca secondo me di questo prodotto ma in generale di tutti questi prodotti Natura Bella è la consistenza eccessivamente liquida e di conseguenza si spreca sempre troppo prodotto ad ogni utilizzo per il resto come prodotto in sé non c'è male e ve lo consiglio se ricapita lo riacquisto poi ho terminato questo in realtà l'ho utilizzato e terminato completamente da sola questo bagno doccia avvolgente della marca Amerigo bellezza e armonia della linea Armonia Rosa con estratto bio di rosa sono 250 ml di prodotto e non so dirvi il prezzo perché si tratta di un regalo che mi è stato fatto diverso tempo fa ma penso intorno ai 5-6 euro non di più ha un ottimo profumo di rosa si sente ma è delicato e come sapete io amo la profumazione della rosa nei prodotti cosmetici e mi piace tanto anche come effetto sulla mia pelle si tratta di un bagno doccia pulente ma estremamente delicato al tempo stesso lascia la pelle del corpo pulita ma allo stesso tempo morbidissima di velluto e anche profumata perché la profumazione seppur delicata si sente per diverso tempo dopo il lavaggio ve lo straconsiglio e se riesco a reperirlo lo riacquisto sicuramente ottimo davvero terminato anche questo detergente intimo della Sensure questo è certificato ICEA quindi ottimo inci lenitivo riequilibrante e delicato PH5 con attivi prebiotici naturali e si tratta di un flacone da 250 ml acquistato in offerta da acqua e sapone per 99 centesimi e uno dei miei detergenti intimi preferiti insieme a quelli del marchio Dermomed perché? perché è pulente ma allo stesso tempo delicato non mi ha mai creato bruciore né irritazione né rossore e mi lascia pulita e tranquilla per diverse ore il profumo poi è estremamente delicato ve lo straconsiglio e sicuramente lo riacquisto anzi ormai sarà la quinta sesta volta che lo riacquisto quindi è un prodotto must have super consigliato poi ho terminato anche l'ennesima confezione di questo colluttorio quotidiano con plasdone della pasta del capitano anche questo è un prodotto must have che termino e riacquisto sempre è la versione whitening quindi sbiancante per denti sensibili con Ox Active e si tratta di un prodotto 100% italiano sono 400 ml anche questo lo compro sempre in offerta per 1 euro massimo 1,50 euro ve lo straconsiglio perché lascia il cavorale pulito fresco e tra l'altro ho notato anche un leggero effetto sbiancante ovviamente abbinato a spazzolino elettrico e vari trattamenti sbiancanti filo interdentale insomma chi più ne ha più ne metta però un leggero effetto sbiancante c'è e ve lo straconsiglio già riacquistato e lo sto anche già riutilizzando poi terminata anche questa confezione da 72 pezzi di salviettine detergenti della Kiko queste in realtà sono per i bimbi ma io le utilizzo come salviettine mille usi quando mi trucco da tenere qui sulla scrivania per qualsiasi evenienza e le avevo trovate sicuramente in offerta d'acqua e sapone per 99 centesimi oltretutto sono senza alcol senza sapone senza parabeni con aloe vera e camomilla mi sono trovata benissimo perché sono ben imbevute estremamente delicate e hanno anche un'ottima profumazione che sta di pulito di buono ve le straconsiglio e sicuramente le riacquisto terminata anche l'ennesima confezione di dischetti leva trucco dischetti struccanti questi sono di acqua e sapone sono 80 pezzi double face con bordino un lato struccante un lato tonificante 100% cotone li pago 99 centesimi in offerta oppure due di queste confezioni per 1,50 1,60 non di più mi trovo bene anche se non sono tra i miei dischetti leva trucco preferiti perché tendono ad aprirsi non sono cuciti quindi perdono anche qualche pelucchio però ecco per l'utilizzo che ne faccio io vanno più che bene e sicuramente in offerta li riacquisto e ve li consiglio poi ho terminato anche qui l'ennesima confezione di salviettine struccanti viso ed occhi del marchio sensore che come sapete sono tra le mie salviette struccanti preferite in assoluto sono 25 pezzi 3 in 1 strucca deterge e rivitalizza qui c'è scritto che rimuove anche il mascara waterproof con provitamina B5 e vitamina E per tutti i tipi di pelle in offerta le pago 99 centesimi e mi trovo benissimo perché sono struccanti quindi sono efficaci con qualsiasi tipo di trucco viso occhi e labbra ma al tempo stesso sono estremamente delicate perché non bruciano e non irritano assolutamente né viso né occhi né labbra e hanno un profumo delicatissimo ve le straconsiglio le ho già riacquistate e le sto anche già riutilizzando top fantastiche poi ho terminato anche quest'acqua profumata per il corpo dei provenzali nel video dei prodotti terminati del mese scorso vi ho mostrato lo stesso prodotto però la versione al muschio bianco stavolta alla viola e si tratta di un'acqua profumata per il corpo rinfrescante per pelli delicate senza alcol prodotto vegetale 125 ml anche questa comprata in offerta per 3-4 euro se non mi sbaglio da limoni profumerie limoni mi sono trovata benissimo come vi ho detto anche nel video precedente questi prodotti non hanno una durata chissà quanto lunga però come acque profumate come profumini per tutti i giorni soprattutto per il periodo estivo vanno più che bene e sono estremamente delicate perché l'ho applicata direttamente sul corpo e non mi ha creato alcun tipo di problema vi ricordo che sono senza alcol come profumo per tutti i giorni per il periodo estivo vi ripeto non c'è male e sicuramente il prossimo anno le riacquisto magari provo qualche altra profumazione poi ho terminato anche questo idrolato di Amamelis bio della saponaria sono 100 ml di prodotto costa davvero poco all'incirca 3 euro 3 euro e 50 ottimo inci la saponaria lo sappiamo e l'ho utilizzato semplicemente come tonico per il viso è un prodotto secondo me senza infamia nell'ode non mi ha particolarmente entusiasmata sì buono perché rinfrescante anche abbastanza allenitivo ma nulla di più secondo me c'è di meglio però per il prezzo che ha si può provare quindi ve lo consiglio perché no ma io personalmente non lo riacquisto almeno non per il momento perché voglio testare altro poi ho terminato questa l'ho utilizzata in due volte differenti questa maschera per il viso in tessuto alla bava di lumaca della skin 79 comprata su ebay dal mio rivenditore di fiducia ovvero rose rose shop due di queste per all'incirca 2-3 euro mi sono trovata benissimo l'ho utilizzata in due volte differenti perché è bella pregna bella imbevuta di prodotto si sa che la bava di lumaca ha proprietà anti età ma anche antimacchia e io l'ho utilizzata soprattutto per questo scopo le macchie sul mio viso una volta utilizzata erano decisamente meno evidenti la pelle più morbida compatta setosa anche più luminosa e più idratata sicuramente la riacquisto adesso la seconda confezione da utilizzare ma in futuro le riacquisto al 100% e ve le straconsiglio ottime davvero poi ho terminato anche l'ennesima confezione di questo dentifricio della dentamentin di questo vi ho parlato innumerevoli volte e si tratta di un dentifricio naturale eco bio perché è certificato il CEA questa è la versione total repair con estratto di liquirizia e mentolo ma c'è anche la versione alle bacche di goji sono 75 ml lo compro sempre solo in offerta al Conad Superstore per 1,30 euro 1,50 euro non di più mi trovo benissimo pulisce bene e lascia l'alito fresco l'ho anche già riacquistato ve lo straconsiglio poi ho terminato anche qui per l'ennesima volta questo deodorante della Yves Rocher questo è il deodorante 0% perché senza sali d'alluminio ne para bene deodorante freschezza alla melagrana di Spagna e sono 50 ml di prodotto in offerta l'ho pagato all'incirca 2 euro mi trovo benissimo con questi deodoranti perché su di me sono efficaci mi lasciano pulita profumata e tranquilla per tantissime ore non mi creano né bruciore né irritazione né linfonodi ingrossati assolutamente no nulla di tutto questo efficace ma delicato al tempo stesso ottima anche la profumazione che sta di fresco e di pulito sicuramente lo riacquisto e ve lo straconsiglio poi finalmente dopo secoli e secoli di utilizzo perché lo sto utilizzando da gennaio e l'ho terminato il mese scorso ad ottobre ho terminato finalmente questo contorno occhi all'olio di karité bio del marchio Avril certificato bio sono ben 40 ml di prodotto tantissimo e costa soltanto 7 euro dopo un po' mi ha stancata perché lo utilizzavo davvero da troppo tempo come contorno occhi è buono ma c'è sicuramente di meglio è molto leggero quindi se avete un contorno occhi particolarmente secco o esigente non ve lo consiglio ma se come me avete un contorno occhi non troppo esigente e giovane allora sì va più che bene però ragazza è troppo troppo prodotto io sicuramente non lo riacquisto però il prodotto in sé è promosso ecco ho terminato finalmente adesso vi spiego anche perché quest'olio solare al monol tiare di tea natura quindi ottimo inci sono 100 ml di prodotto boccetta in vetro scomodissima e se non mi sbaglio costa esattamente 5 euro io inizialmente l'avevo comprato come olio solare da utilizzare al mare o comunque in piscina per andare a proteggere e nutrire i miei capelli dopodiché il tempo passava non lo utilizzavo e l'ho terminato sotto la doccia per andare a idratare e nutrire con la pelle ancora umida ancora bagnata la pelle del corpo per questo utilizzo anche no perché secondo me è eccessivamente unto pesante fatica ad assorbirsi la profumazione poi personalmente non mi piace sa davvero tanto di fiori profumazione floreale mono e tiare sì però personalmente non mi piace so che tanti di voi apprezzano e amano questa profumazione però nel mio caso anche no ecco come idratante sotto la doccia non ve lo consiglio perché vi ripeto fatica ad assorbirsi e vi lascia completamente unte pronte per la frittura come dice mia mamma anche no non ve lo consiglio poi ho terminato anche questa crema per il viso anzi questo è un siero per il viso pelle perfetta del marchio Otermal Jeansac comprata ancora a Tolosa diversi mesi fa terminata ad ottobre sono 30 ml di prodotto costa una sassata perché costa tipo 18 20 euro però in quel periodo avevo l'acne acne leggera vi ricordo quindi cercavo qualcosa di efficace e di mirato mi è piaciuta tantissimo la confezione è in vetro però è comodissima e praticissima alla pompetta al dosatore allora facciamo un bilancio come mi sono trovata alla fine della fiera con questo prodotto mi sono trovata bene sì però adesso sinceramente non andrei a rispendere 18 20 euro mi è piaciuta come crema come siero perché è molto leggero si stende facilmente e si assorbe anche facilmente in breve tempo non mi ha creato imperfezioni aggiuntive mi lasciava la pelle morbida levigata e tutto quanto ho notato anche se piccoli dei miglioramenti per quanto riguarda imperfezioni brufoletti anche se di certo non li faceva sparire quindi sì buono come prodotto però forse 18 20 euro non se li vale vi ricordo poi che John Zack ha un ottimo inci e per concludere ho terminato ben due prodotti di make up due fondotinta uno liquido uno in polvere ho terminato il mio adorato fondotinta di Elf del quale vi ho parlato tantissime volte si tratta del flawless finish foundation SPF 15 20 ml di prodotto costa sicuramente meno di 10 euro questo mi era stato inviato tanto tempo fa dall'azienda comodissima la confezione ovvero questo dosatore questa pompetta che permette di non sprecare il prodotto ma di prelevare la giusta quantità il fondotinta è molto valido perché la coprenza è media anzi medio-bassa ma perfetta secondo me per tutti i giorni l'effetto è naturale ma modulabile al tempo stesso molto molto luminoso radioso e non mi ha fatto uscire imperfezioni aggiuntive rispetto a quelle che avevo in precedenza non andava poi a evidenziare pori dilatati oppure secchezza della pelle fantastico e ve lo straconsiglio se vi capita io avevo la colorazione più chiara vediamo se è riportata sì la porcellana ottimo prodotto nulla da dire e poi ho terminato anche se non del tutto perché c'è ancora del prodotto all'interno ma adesso vi spiego perché questo fondotinta minerale in polvere libera di Neve Cosmetics nello specifico quello ad alta coprenza Light Coverage Mineral Foundation nella colorazione Medium Neutral 8 grammi di prodotto forse sta intorno ai 13-14 euro qualcosa del genere c'è ancora del prodotto all'interno come potete notare ma la maggior parte l'ho terminato purtroppo è andato a male perché? perché io ho questo prodotto ormai da 3 anni quindi è normale il PAO è di 12 mesi ci sta tutto che sia andato a male questo prodotto lo utilizzavo nel periodo estivo perché questa è la colorazione che utilizzo nel periodo estivo quindi alla fine 3 mesi l'anno ed essendo un prodotto in polvere libera è difficilissimo da terminare come fondotinta mi è piaciuto tantissimo e sicuramente lo riacquisto per il prossimo anno per la prossima estate ma secondo me va benissimo anche come fondotinta da utilizzare tutto l'anno e tutti i giorni ha davvero un'alta coprenza pur essendo minerale ha un'ottima durata pur essendo minerale e non andava a evidenziare pori o secchezza della pelle l'effetto anche qui è naturale ma modulabile e io sinceramente ve lo straconsiglio è un ottimo prodotto tra l'altro ci sono tantissime colorazioni disponibili top e consigliato vi ripeto lo riacquisto sicuramente il prossimo anno ok ragazze io ho terminato questi erano tutti i prodotti terminati durante il mese di ottobre come vedete abbastanza quindi sono molto molto contenta e soddisfatta del mio smaltimento prodotti come al solito fatemi sapere che cosa ne pensate lasciatemi i vostri commenti qua sotto se vi è piaciuto e se vi è stato utile questo video un bel like io vi saluto un bacio grande e alla prossima ciao